Diacovo, perché queste critiche del centro-sinistra al Pescara Liberty Festival? Perché è stata decapitata tutta la scena e la vita culturale di questa città, prosciugando le energie alle principali istituzioni culturali di Pescara, associazioni, eventi, festival. Basti pensare che il Museo Gentile d'Abruzzo, che ha richiesto circa 300.000 euro per poter avere attività ordinarie, ne ha ricevuto neanche un terzo. Il flauto, i fondi dimezzati nel suo ventennale. Indie Rocket cancellato, cioè nonostante tutte queste risorse prosciugate dal mondo della cultura vengono a convergere in questo attesissimo Festival Liberty, che è un programma debolissimo. Sette giornate, sette concerti per una cifra di circa 120.000 euro, quasi 20.000 euro al giorno, per un festival che ci aspettiamo fosse qualcosa di grande, interessante, coinvolgente per la città, invece non può neanche avere un minimo di richiamo turistico, perché hanno annunciato quattro giorni prima che iniziasse il festival, quindi senza poter prevedere nessun tipo di partecipazione come quella chiamata in caso. Un festival con un programma debole, ma per noi ogni euro speso in cultura è comunque una buona cosa, anche se qui il budget è assolutamente più grande, secondo me, dell'offerta culturale che offre. Ma in cambio di questo piccolo festival hanno cancellato, azzerato, dicapito tutte le possibilità, la scena, la vita e la cultura di una città. E questa cosa per noi è molto grave. Avete chiesto un'interlocuzione con l'amministrazione comunale, con la Giunta? Assolutamente sì, ci vediamo anche nella Commissione di Controllo e Vigilanza, che presediamo io e Piero Giampietro, per capire come sia stato possibile spegnere l'intera vita culturale di una città, per far convergere tutto su un festival di pochi giorni e sicuramente non di alto profilo.